...dai la possibilità di rigiocare come è successo e far punto. Per Milano con Ishikawa che cerca un pallonetto, lo difende Lagunzi e poi l'errore di Monza, nessuno va su questa palla, incredibile, Monza regala uno scambio, era stato bellissimo ma Monza lo regala a Milano che scappa via, 11-6. Mamma mia, mamma mia. Grazie a tutti.